Perché è un percorso di consulente filosofico? Perché la filosofia? Cosa centra la filosofia con la nostra vita? Perché semplicemente il nostro mal di vivere è dovuto al fatto che viviamo in un'epoca di produttività, tempestività, efficienza. E se non sei produttivo, tempestivo ed efficiente non vali niente. E' in un periodo di crisi dove il primo valore della vita è la produttività. Io come posso sentirmi bene? Se sono disoccupato, se sono precario, se ho un lavoro che grosse soddisfazioni non porta né dal punto di vista economico né da quello emotivo. La tecnica è al primo posto. Non importa quali siano le conseguenze di queste azioni tecniche. Perché se il robot supera l'uomo in produttività, ecco che il robot sostituisce l'uomo. Che fine hanno fatto i valori etici e morali? Ci chiede la filosofia. Come faccio a vivere e contrappormi a questi valori tecnici dove io mi sento superato da ogni questione che abbia a che fare principalmente con la produttività e il reddito? La filosofia può diventare molto produttiva dentro di te se ti aiuta a tornare e a sognare. Se non abbiamo sogni per il nostro futuro, non abbiamo neanche le motivazioni per metterci all'azione. Chi me lo fa fare di muovermi se non ho un sogno da realizzare? Nel momento in cui io sia riuscito ad avere almeno un minimo di copertura materialistica, come faccio nel resto del tempo a sviluppare una felicità interiore dei sentimenti e delle emozioni se i miei sogni giorno dopo giorno vengono spenti perché non ho altri obiettivi da realizzare nella mia vita se non quello di essere produttivo, tempestivo ed efficiente? Non siamo messi nelle condizioni di sentirci felici, siamo messi nelle condizioni di trovare qualche cosa che possa farci d'attetto dal punto di vista materialistico e coprirci da eventuali incertezze. Ma chi si sente veramente sicuro e al coperto oggi? Dato che di certezze non ce ne sono, come faccio a vivere la mia vita serenamente non avendo un controllo su praticamente quasi nulla? Qui non è questione di traumi del passato, qui è questione proprio di una situazione ben presente che devo imparare ad affrontare in un certo modo e la filosofia mi può aiutare, sia quella orientale che quella occidentale a vivere con maggior serenità lo stato che stiamo vivendo che è quasi del tutto privato di emozioni e sentimenti. Ho visto che anche nei percorsi di ricerca interiore si parla spesso di tecniche, di strategie e di produttività appunto ma per poter essere più produttivi nella vita ed esserlo in maniera serena, felice e veramente efficace dobbiamo sentirci prima di tutto bene con noi stessi e occorrono dei mezzi per poter stare bene con se stessi. La filosofia da sempre si è preoccupata di capire la vita e di fornire i mezzi per poterla attraversare nel modo migliore possibile. Nei corsi di PNF, diventa consulente filosofico e naturopatia dell'anima affrontiamo tutte queste questioni di vitale importanza. Ti aspettiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!